Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4 Io sono Jovi e questo è il 33esimo episodio della seconda stagione Eccoci qua ritornati dalla famiglia dei vecchietti, tra virgolette Cioè dalla famiglia di Enrico, Valentina, Emanuele, Eleonora, Lisa, Sergio e Riccardo Ecco qui tutti e sette i sim seduti in salotto Ovviamente tranne Riccardo che sta in piedi Visto che il bambino è bassino si è messo alzato perché lo spazio non c'è più sul divano E oggi faremo un sacco di cose perché questo è il penultimo episodio in cui saremo con questa famiglia Perché la prossima volta che torneremo da loro sarà l'ultima Adesso vi spiego un pochettino che cosa ho pensato per questa famiglia e perché sto dicendo questo Adesso ve lo dico In questo episodio, molto probabilmente, ma io direi al 100%, abbandoneremo Valentina e Enrico Nel senso che loro ci lasceranno e andranno in paradiso E sì, penso che moriranno per vecchiaia in questo episodio proprio perché la loro barra è al massimo Guardate, manca veramente pochissimo sia a lui sia a lei Manca davvero pochissimo quindi oggi saluteremo sia Enrico sia Valentina E poi oltre alla morte di Enrico e Valentina oggi voglio dedicarmi al compleanno di tutti Passeranno in età tutti, tutti quanti diventeranno anziani o nel caso di Riccardo diventerà adolescente Ancora mancano un pochettino di giorni Per esempio a Emanuele ed Eleonora mancano 13 giorni A Lisa in realtà non manca niente perché deve diventare anziana A Sergio invece ne mancano 6 Insomma, ognuno ha dei periodi diversi Però visto che comunque li abbiamo visti fin troppo questi sim nel gameplay Abbiamo giocato tantissimo con loro Io direi che possiamo anche completare la seconda generazione Quindi questi due ultimi episodi secondo me bastano per completare la seconda generazione in bellezza E poi ci dedichiamo alla terza con le nuove famiglie Poi in questi episodi in realtà ci lasceranno Valentina ed Enrico Che dovrebbero essere i sim più giovani perché Valentina è la sorella minore di Emanuele Però se seguite la prima stagione, se avete seguito la prima stagione del gameplay Sapete che Emanuele e anche Sergio erano dei vampiri Quindi anche se sono più grandi però per un periodo sono stati immortali E quindi sono più giovani per questo periodo Sono più giovani ma sono più vecchi Non so se avete capito però va bene comunque Moriranno prima purtroppo Valentina ed Enrico I miei sim del cuore li amo E oggi faremo proprio le ultime cose con loro Ma oggi andremo anche a un raduno della fantasiosa compagnia Perché voglio far passare l'età non solo tutti loro che vedete sullo schermo Ma anche i membri della fantasiosa compagnia Che ci hanno accompagnato con questa seconda generazione Cioè Antares, Zoe e Violet E sì non me li sono dimenticati assolutamente no È il club che ci ha accompagnato per tutta la seconda generazione Per tutto il gameplay effettivamente E quindi voglio assolutamente far passare tutti l'età E poi una volta che sono morti quasi tutti vorrei eliminare il club Perché non vorrei che continuasse Quindi oggi faremo passare l'età Ancantares, Zoe e Violet e torneremo alla casa dei balocchi Insomma faremo un bel po' di cose E io direi di partire immediatamente Perché già mi sono dilungato troppo in chiacchiere Allora io poco fa comunque ho pagato le bollette E sì ho pagato 40.000 simon di bollette Sì una cifra esorbitante Nello scorso episodio avevo anche detto Che volevo fare un makeover Della clinica Bao Miao e del pane dolce e fantasia I due negozi diciamo Sì una è una clinica e una è un negozio una panetteria Oggi andremo alla clinica Bao Miao Non ho fatto makeover Già ve lo dico da adesso Perché trovavo inutile in realtà fare un makeover Di un qualcosa che utilizzo solo in questo episodio E poi lo devo abbandonare Quindi ho detto Vabbè perché modificarlo non ha senso Quindi oggi saremo l'ultima volta nella clinica Bao Miao E poi non la utilizzeremo più Non voglio lasciarla in eredità ai figli Quindi oggi abbandoniamo la clinica veterinare insomma E quindi fare un makeover secondo me non aveva senso Sono le 5 di mattina anzi E visto che Enrico e Valentina hanno poco tempo davanti a loro Rimane pochissimo tempo Direi immediatamente di andare alla clinica veterinaria Perché poi dopo voglio fare tutti i compleanni E anche il raduno della fantasiosa compagnia Quindi forza andiamo Alla clinica Bao Miao Eccoci qui arrivati alla clinica E già mi spunta questo messaggio molto inquietante Cioè la lunga vita di Enrico Volpe Sta per finire Sarebbe un buon momento adatto Per dire addio ai propri cari Mettere ordine nei suoi affari Ok Va bene Comunque non c'era bisogno di questo avviso Perché già lo sapevamo Ma comunque eccoci qua Ritornati alla clinica Bao Miao Voglio anche approfittare per fare un punto della situazione Su tutte le Su tutte le imprese Allora la clinica Bao Miao Oggi la salutiamo per l'ultima volta Il pane dolce e fantasia Forse ci andremo nel prossimo episodio con loro Quindi nell'ultimo episodio con questa famiglia Così diciamo addio anche alla panetteria Il tanghe single pizza e patatine Non li vedremo Non ci voglio ritornare Anche perché ci siamo stati talmente di quelle volte Che trovo abbastanza inutile ritornarci Se volete vedere un pochettino come sono questi due ristoranti Magari ve li siete persi Andate a vedere la playlist The Sims 4 Franchising Restaurants Challenge Così avete proprio un'infarinatura completa di quei due ristoranti Perché ci siamo stati per ben 14 episodi in quei due ristoranti Quindi tranquillamente potete guardare i due ristoranti nel dettaglio Allora io direi di partire subito dalla clinica Ho deciso alla fine che non fa niente Possiamo lasciare la clinica 3-3 stelle e mezzo Perché poi comunque la clinica l'abbiamo vista Le cose della clinica sono queste Quindi le visite, il tavolo chirurgico Insomma già abbiamo visto tutto E anzi ho giocato off camera E volevo farvi vedere delle cose che sono successe off camera Enrico è arrivato a livello 10 della abilità veterinaria Adesso lui può preparare il dolcetto dell'ambrosia Che è quello che si può fare con il livello 10 Che dovrebbe essere questo qui Che permette di riportare in vita i nostri animali Un pochettino come l'ambrosia effettivamente per i sim E poi una cosa che è successa però questa volta con Sergio È che con Sergio ho avuto una promozione Adesso lui è arrivato al ramo della carriera di politico C'era la scelta tra politico e ente di beneficenza Comunque qualcuno che faceva cose benefiche E alla fine ho scelto politico perché lui secondo me come beneficenza Non ce lo vedo proprio Cioè lui beneficenza No Ok dai partiamo Partiamo aprendo questa clinica veterinaria E adesso c'è solo un dipendente Il dipendente è rimasto sempre quello Il secondo invece non c'è più Il secondo non c'è più Però un dipendente è rimasto lo stesso Asciughiamo un pochettino qui E anche le impostazioni dovrebbero essere un po' strane Sì Togliamo la pubblicità Il costo della terapia lo posso lasciare elevato Perché tanto abbiamo fin troppi soldi E il costo qui lo mettiamo al 100% Con tutti i soldi che ci sono qui Alla fine Non voglio fare come ho fatto per la Alla morte della prima generazione Cioè che divido i soldi nelle famiglie Sinceramente preferisco di no Questi 100.000 simoleon che sono esagerati Li lascio qui e li voglio perdere tutti Lo so magari penserete Giovi ma sei pazzo? No non sono pazzo Semplicemente perché trovo che il gameplay con tutti questi soldi Non si riesce a godere È come se stessimo utilizzando i trucchi effettivamente Perché sono veramente troppi soldi Io non riesco a gestirli tutti questi soldi E non mi godo il gioco Quindi preferisco abbandonare tutti questi soldi Spero capiate questa mia scelta Insomma quindi Una volta che muoiono tutti Quest'eredità Rimarrà a nessuno Insomma Svanirà nel nulla Comunque lui sta pulendo Perché ci sono tutti i vomitini dei gatti E sono arrivati i vari clienti Allora parliamo con Nicola Parisi Saluta con impazienza No perché Comunque è arrivato il nostro dipendente Julian Jimenez Ok Va bene basta Basta pulire le pozze Che questi gatti mi hanno fatto 100.000 vomitini per terra Adesso arriva qua e parla con lui Ok Una visita per Sandy Dai facciamo queste ultime visite da veterinario Ecco qui abbiamo la terza saletta Che forse l'ultima volta che siamo venuti qui in maniera attiva Non ve l'ho fatta vedere Comunque ho messo questa terza postazione Se non ve l'ho fatto vedere Penso di avervelo fatto vedere Ok Ecco qui Sandy Black Che sarebbe proprio un gatto del quartiere degli iscritti 2.0 Allora intanto rassicuriamo l'animale E poi facciamo i miei vari esami Una cosa che comunque cambia con la clinica di livello maggiore o minore Sono la difficoltà dei casi effettivamente Perché all'inizio Le cose da diagnosticare sono molto facili Mentre poi quando si va avanti Si hanno molte anche Molti casi di utilizzo di postazione chirurgica Quindi insomma dipende Comunque abbiamo fatto la prima visita di controllo E Sandy sembra che non fosse malata Si però aveva intasamento lieve della ghiandola graziosa Vabbè gli ha fatto una puntura preventiva Vabbè se lo dice il gioco che non era malata Io ci credo Allora parliamo anche con questo ragazzo Nicola Parisi No Ci sta già parlando Julian Quindi no Puliamo la lettiera A questo punto puliamo la lettiera Facciamo la mattina di recensioni Come vedete Già siamo a 3 stelle e mezzo Magari arriviamo a 4 Dai Io sono fiducioso Magari arriviamo a 4 stelle Con la clinica Ok facciamo un'ispezione di pelle e pelo Ascoltiamo il cuore Ok temperatura bassa No Pelle della tundra Vabbè sempre Sempre fredda insomma Biscotto con farmaco X È quello che ci vuole Forza La pelle della tundra è bellissimo Comunque È pelle della tundra Vabbè Allora Vediamo un pochettino qui C'è anche quest'altro cliente Ecco qui Iniziamo a visitare anche il gattino Gracie Ascolta il cuore Misura la temperatura Aspettate un attimo Assicuro anche l'animale Se no Sta troppo Sta troppo inquieto Va bene Abbiamo i risultati dell'esame Dobbiamo calmare l'animale Che sta facendo ancora vomitini E poi dobbiamo dargli il dolcetto All'essenza di placebo Forza Vieni qua Calmiamo l'animale E poi gli diamo il dolcetto Perfetto Abbiamo curato anche quest'altro paziente E c'è Ilaria Fontana Che non è soddisfatta dell'ambiente Perché ci sono i vomitini Come avevo detto Già prima Insomma Facciamo un'ultima visita Vabbè Va bene Comunque nel frattempo Avevo cercato di mandare Enrico in bagno Ma alla fine si è fatto La pipì addosso Come sempre Quindi facciamo un'ultima visita E poi Torniamo a casa Dai possiamo chiudere Con la clinica veterinaria E salutarla Allora Vieni qui Facciamo anche un'ispezione di pelle e pelo E un misura la temperatura Penso che questo sia la solita Tipo Zampe magmatizzate Qualcosa col magma Insomma No Fiuto surriscaldato Vabbè Qualcosa di surriscaldato c'era Eeeh Spray fungicida Ok Perfetto Abbiamo capitato anche con questa Visita Dun 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 Perfetto Abbiamo finito anche con questa visita Direi che possiamo anche chiudere Abbiamo chiuso a 3 stelle e mezzo Dai 3 stelle e mezzo Secondo me Va benissimo Va benissimo così Perché io più in alto di questo Non sono riuscito a fare Fatemi sapere se magari avete avuto una clinica E siete riusciti a mandare il tutto più in alto Perché io Sinceramente non ci riesco E' più semplice Sicuramente con i ristoranti I ristoranti Sono più semplici Ma perché ci sono i critici Gastronomici Quei critici Fanno alzare moltissimo La valutazione O l'abbassano Notevolmente Quindi dipende da come va Però i critici Aiutano molto Mentre qui Nella clinica ovviamente Non ci sono E quindi la situazione E' un po' più complicata Io ho giocato tantissimo E quello che sono riuscito a fare E' arrivare a 3 stelle e mezzo Dai Io sono comunque soddisfatto E Dai Sono soddisfattissimo comunque Del lavoro di Enrico Ho portato al massimo Le due abilità Di cani e gatti Quindi L'addestramento di animali E quella vetrinaria Le ho portate al massimo A livello 10 Quindi Ho visto Tutta l'espansione Cani e gatti Posso tranquillamente Dirlo a grande voce Invece Un'espansione Che non ho visto minimamente Nel gameplay E' quella di 9 stelle Infatti Poi con le famiglie Della terza generazione Vi dirò un pochettino Come ho deciso Di strutturare il tutto Perché già ho deciso Come spalmare I contenuti Di 9 stelle All'interno delle famiglie Adesso Poi Le prossime volte Che torneremo Dalla terza generazione Vi parlerò di questo Però Torniamo a casa Noi nel frattempo Perché lui è stanchissimo È distrutto Mamma mia Vediamo un pochettino Gli altri come stanno Dipende da come stanno Se stanno Più o meno bene Possiamo fare direttamente Il raduno Della fantasiosa compagnia Altrimenti Lo facciamo La giornata dopo E facciamo i compleanni Il giorno dopo Facciamo riposare tutti E poi facciamo tutto Il giorno dopo Ed eccoci tornati Nel nostro Attico di fiducia Allora Vediamo un pochettino Come stanno gli altri Lei è tesa Lei è felice Lui è stanco Perché è andato al lavoro Abbiamo lui che sta bene Lei che è un po' stanca Perché sta al lavoro E lui che è stanchissimo Perché l'abbiamo controllato Ehm Hmm Allora Lei quando torna? Ah Lei torna Alle 2 di notte Mamma mia Che esagerazione A questo punto Direi di fare Facciamo una cosa Facciamo prendere Le pozioncine Solitissime A quelli che stanno Peggio Quindi ad Enrico E ad Emanuele Facciamo prendere Le 2 pozioncine Non questa Ma la pozioncina Solutrice Di stati umorali Insomma Prendiamo queste pozioncine E andiamo a fare Un raduno Della fantasiosa compagnia Cominciamo a fare I primi compleanni Poi i compleanni Di Lisa e Sergio E Riccardo Invece li facciamo A fine episodio Così Ehm Poi magari Non ci troviamo Con Enrico Che muore E non siamo riusciti A fare L'ultimo raduno Della fantasiosa compagnia Non voglio rischiare E quindi Andiamo Subito Perché se Dovesse morire E non riesco a fare Il raduno Ci rimarrei troppo male Quindi Facciamo questa cosa Così E fa tempo Qualcuno Prepari una torta Vediamo un po' Chi la prepara La torta La prepara Eleonora Forza Vieni qui Cucina Io quasi quasi Ne preparerei Qualcuna in più Perché non mi fido Dei sim Prepariamo una torta Di carrube E cocco Senza zucchero E poi magari Facciamo venire Qualcun altro qui Magari facciamo venire Valentina E tu ne prepari Un'altra Tu mi prepari Invece La torta al cioccolato Forza venite qui E preparatemi le torte Ok Quindi la prima torta L'abbiamo Mettiamo subito Le candeline Così non rischiamo Che se la mangino E la mettiamo Nell'inventario Di Di Eleonora Dai va bene E anche Valentina Aspettate che La metto al centro Del bancone Questa torta E anche questa torta Può essere munita Di candeline Perfetto Adesso è mezzanotte Facciamo questo raduno Della fantasiosa compagnia Anche se A mezzanotte Ma dai Lo facciamo ugualmente A quest'ora Andiamo Eccoci Alla casa Dei balocchi Mamma mia Quanto tempo È da tantissimo tempo Che non torniamo con loro Alla casa Dei balocchi Allora Facciamo andare un attimo Valentina In bagno Che non ce la fa più Invece con tutti gli altri Non andare Con i pattini Ma perché Adesso tutti quanti Si utilizzano Questa moda Allora Andiamo al piano di sotto Che è il piano Dedicato Al club Degli adolescenti Insomma Quindi Alla fantasiosa compagnia Venite tutti qui Valentina Andata in bagno Sì E già mi è arrivato Anche per lei Il messaggio inquietante Quindi forza Muoviamoci Allora Una cosa che voglio fare Prima di tutto È quella di fare Delle foto Voglio fare Le foto Di gruppo Come vedete Qui ci sono delle foto appese E sono queste qui Come vedete Quando loro erano adolescenti O giovani adulti Abbiamo fatto queste foto E le abbiamo appese Adesso voglio fare La stessa Identica cosa Eccoli Guardate Bellissimi Mi piacciono un sacco Aspettate Teniamo sempre Lo sfondo Del muro di mattoni Vabbè Per ora L'ho lasciato Io quasi quasi L'idea di non mettere Filtri Ma mettiamo però Di stampo grande Facciamo la grande La foto Ok Quindi ecco qui Alcune foto Come sfondo Posso ottenere Questo del muro di mattoni Secondo me Perché gli altri Non sono belli Quanto il muro di mattoni Che ricorda The Sims 2 A me piace questo Perché ricorda Anche un po' The Sims 2 Con il suo crown sim Quindi Lasciamo il muro di mattoni Adesso direi che Possiamo fare Una foto Di un gruppo Di adulti E la facciamo Ed Emanuele Ed Eleonora Facciamo sempre La foto Media Ed ecco qui Abbiamo fatto La foto Anche a loro Adesso manca Semplicemente A Gli altri tre membri Della fantasiosa Compagnia Comunque Tengo a precisare Che Eleonora Non faceva parte Della fantasiosa Compagnia L'ho unita Solamente per questo episodio Per una questione Di comodità Però Non ha mai fatto parte Della fantasiosa Compagnia Facciamo venire qui Gli altri Va bene così La facciamo così Dai La facciamo In questa maniera Un po' strana Allora Vediamo un pochettino Di adesso Appendere tutte Le foto Che abbiamo fatto Va bene Ho posizionato Tutto Allora Le uniche Che non sono cambiate Sono praticamente Violet e Zoe Perché Non sono cambiate Non abbiamo giocato Troppo con loro Con i tre sim Del quartiere Degli iscritti Non ci abbiamo giocato Troppo Perché comunque Erano sim Solamente della Fantasiosa Compagnia Poi Non li abbiamo Controllati Attivamente Mentre gli altri sim Sono cambiati E come Guardate Emanuele Com'era E adesso Com'è Poi Eleonora Non c'era Proprio Eleonora Non c'era Infatti qui Nella foto C'è Enrico Mentre Adesso c'è Eleonora Poi abbiamo Enrico E Valentina Guardate che bellini Certo le foto Sono orribili Cioè sono tutte Pixelate Vabbè Comunque ecco qui la foto anche di Valentina ed Enrico Resto da anziani Da giovani invece erano una così Guardate che bella Valentina da giovane E poi abbiamo anche Enrico E gli ultimi No Non c'è più nessuno Ah e poi c'è Antares Che guardate Io ho fatto una foto così adesso E la foto da adolescente È identica Cioè non cambia assolutamente niente Però dai Va bene lo stesso Già dall'ultima volta che sono venuti qui Ho lasciato un tavolo Quindi possiamo tranquillamente fare il compleanno Come l'ultima volta qua sul tavolino E cominciamo con la prima torta Con la torta di carrube e cocco senza zucchero Io direi di partire dai sim del club Perché loro sono ancora giovani adulti Tenetevi conto di quanto sono giovani Cioè non ci giochiamo da talmente tanto tempo Che loro sono ancora giovani adulti Quindi dobbiamo fargli fare ben due compleanni Allora ecco qui il primo compleanno Aggiungi immediatamente le candeline Aggiungi Ok Nooo Lo sapevo Lo sapevo Perché Ok Ho la torta di ricambio Ho la torta di ricambio Forza dov'è la torta di ricambio Lo sapevo Lo sapevo Ma come facevo a saperlo Ormai gioco da troppo tempo sto gioco Cioè l'avevo proprio previsto Ecco qui Abbiamo la torta di riserva Ed ecco qui anche Violet Che passa dietà Forza Venite qui Festeggiate Nooo No no Dai Mi stavamo festeggiando i compleanni Vabbè Purtroppo me l'aspettavo Infatti ho voluto subito fare le foto Così Non mi perdevo la foto con Enrico Dai Venite qua Allora Intanto aggiungetemi le candeline Vabbè Nessuno si mangia la torta Spero Allora La rimetto un attimo nell'inventario Nooo Dai Che brutta cosa Vabbè È arrivato Già il tristo Mettitore Purtroppo Già diciamo addio Al povero Enrico Dai Poverino Vabbè Dai Comunque Alla fine Ne abbiamo giocato tantissimo con lui Siamo stati anche alla clinica Oggi con lui Quindi dai Alla fine Ce lo aspettavamo Io già l'avevo Già l'avevo detta come cosa Quindi alla fine Non era una cosa inaspettata Con il tristo È inutile implorarlo Perché tanto morirebbe Ugualmente Quindi Non c'è niente da fare Guardate tutti come piangono Fa È sempre brutto comunque andare Vedere che i sim vanno via Vabbè Poi comunque creeremo un cimitero Nel prossimo episodio Poi lasceremo tutti E porterò tutti In un cimitero Ovviamente Perché non posso lasciarli più Nelle case In questa maniera Adesso la tomba Però voglio un attimo Portare qui Riccardo E la metto nel suo inventario Così non la perdo Così non ho Il pensiero magari Di perdere la La tomba Dai facciamo passare D'età comunque Tutti gli altri Perché ancora non abbiamo finito Ok abbiamo finito Con gli altri Violet è passata di età Mi pare di sì Antares Zoe E Violet Ok sono tutti Anziani Adesso tocca Ad Emanuele E dell'onora E poi a casa Quando torniamo a casa Toccherà anche a Sergio E Lisa Allora facciamo passare D'età Emanuele Quindi forza Vieni qui Ecco Tutti quanti Che festeggiano Per il compleanno Di Emanuele Ok E' diventato Anche lui Anziano Ovviamente C'è sempre la solita Descrizione Dell'anzianità Adesso direi Che possiamo aggiungere Nuovamente Le candeline Anche il tristometitore Vuole festeggiare Aspettate E facciamo passare D'età E' Eleonora C'è il tristometitore Che festeggia Il compleanno Di Eleonora Ma seriamente Un compleanno Un po' macabro Vabbè Comunque Anche Eleonora E' passata D'età Adesso E' anziana Perfetto Abbiamo fatto Passare tutti I sim Dell'unità Abbiamo fatto Diventare Anziani Tutti i sim Della Fantasiosa Compagnia A questo punto Direi di fare Un'ultima foto Con Eleonora Ed Emanuele D'anziani E poi possiamo Tornare a casa Nell'attivo Così finiamo Con i compleanni Diciamo che Questo episodio Si è basato Soprattutto su Compleanni E compleanni E compleanni E compleanni Sì lo so Ok abbiamo Anche l'ultima foto Di Eleonora Ed Emanuele D'anziani Perfetto Abbiamo fatto Tutte le foto Abbiamo fatto Tutti i compleanni Che volevo fare Adesso ovviamente Loro tre Non moriranno Rimarranno anziani Però Anche se non muoiono Però basta che Rimangono anziani Alla fine Basta che non rimangono Giovani adulti Perché è troppo Inverosimile Se sono anziani Mi va bene Ok quindi abbiamo Fatto passare Tutti l'età Anche se comunque Le barre non erano Arrivate al massimo Per un fatto comunque Di unità familiare E' inutile portare Adesso i sim Finché non muoiono Nelle altre famiglie Da ringombro Sinceramente trovo Che sia una cosa Veramente inutile Quindi facciamo diventare Tutti anziani Adesso Ok Proprio per questo Torniamo a casa E facciamo passare d'età Anche tutti gli altri Tre sim Che rimangono Nell'unità familiare Cioè Lisa Sergio E Riccardo Possiamo terminare Il raduno Della fantasiosa compagnia Abbiamo fatto le foto E festeggiato i compleanni Anzi Portiamoci la torta a casa Così festeggiamo i compleanni Con la stessa torta E Purtroppo Enrico Già ci ha lasciati Quindi adesso Dobbiamo semplicemente Aspettare Valentina Che ormai Sta per lasciarci Pure lei Ed eccoci Nell'attico Allora adesso Vediamo un pochettino Di radunare Tutti i sim Creiamo un gruppo A casa Allora Forma un gruppo Tra tutti i sim Vabbè manca il bambino Ma va bene Allora Venite tutti qui E festeggiamo Gli ultimi compleanni Che ci mancano Forza venite tutti qua E Ok Lisa è passata di età Da sola Vabbè Stavo festeggiando il compleanno Dai era più carino Con la torta Vabbè Comunque Anche Lisa È passata di età Adesso Che cosa ci manca Ci manca Sergio e Riccardo Che in realtà Non è arrivato il momento Del passaggio di età Ma come vi ho detto Li faccio passare di età Ugualmente Allora Venite qui Prendiamo la torta Che sta nell'inventario Di Valentina Mettiamo un attimo La torta qui Aggiungiamo le candeline E facciamo passare di età Gli ultimi rimasti Allora Venite qua Vai qui Adesso Facciamo intanto Assaggiare la glassa Sergio Magari Togliamogli il Il pigiama E facciamolo venire qui Forza Assaggio la glassa Aspettate che metto Una bella visuale Ok Dai Abbiamo fatto un sacco di compleanni In questo episodio Però Ok Anche Sergio È passato di età È diventato anziano E Ok Martina ha spedito un regalo A Sergio E Cosa Era ancora Giovene adulto Era ancora Giovene adulto Ma da dove Ma da quando Ok Era ancora Giovene adulto Questo mi mancava No No Questo mi mancava Seriamente Vabbè Lo facciamo passare di nuovo Di età Ovviamente Adulto Non lo lascio Forza Quindi qua Non pensavo fosse Giovene adulto Comunque Veramente Ok Perfetto È diventato Anziano Faccio un sim Raggiungo il massimo Livello Dell'abilità Di scrittura E che c'entra Questo No Questo Non l'ho capito Ah Per Sergio Ma lui già aveva L'abilità Di scrittura Al massimo Vabbè Le solite cose Che non hanno senso E va bene Quindi sono passati Tutti Di età Sono diventati Anziani Adesso manca Semplicemente Il piccolo Riccardo Quindi forza Veni qui E facciamo diventare Anche Riccardo Adolescente Così poi Nel prossimo episodio In cui poi Ci lasceranno tutti A lui Lo porto Nella famiglia Di Esther Martina Alberto E Luca Quindi forza Facciamo diventare Adolescente Già da adesso Anche perché Gli mancava poco Ok Riccardo E' passato Di età Ed è diventato Anche lui Un adolescente Allora Come aspirazioni Che cosa gli diamo E quasi quasi Gli darei Devianza Visto che è il figlio Di Sergio E di Lisa Una devianza Ce la vedrei Io una Cosa di devianza Ce la vedrei Magari gli mettiamo Un nemico pubblico E poi Ego centrico Ma si dai Ego centrico Secondo me ci può stare Perfetto Ecco qui Riccardo Romeo Che è stato allontanato Dal suo club Perché è adesso adolescente Questo me l'avevo dimenticato Vabbè Vedrò di Aggiustare tutto In realtà E' un po' strano Questo bambino Perché E' secco secco Ha la faccia enorme Però dai Vedremo un pochettino Di aggiustarlo Nel crown sim Allora Chiama a tavola però Non prendete la solitura Da torta Chiama a tavola Ok dai Forza Potete prendermi tutti Un pezzo di torta Adesso che siete diventati Tutti anziani Adesso aspettiamo Semplicemente Che arrivi l'ora Di Valentina E poi possiamo Tranquillamente Chiudere l'episodio È stato un episodio In realtà più Non è stato pienissimo Di cose Perché abbiamo fatto In realtà Compleanni Su compleanni E adesso Vedere tutti quanti Con Con i capelli Bianchi È veramente Stranissimo Comunque Riccardo Secondo me È buonissimo Se sta con Martina Perché Martina È la sorella Quindi secondo me Possono stare insieme Comunque Il tecnico di impollinazione Senior Sta sempre qui Vediamo un pochettino Loro che mangiano La torta Buona Vabbè Sono anche tristi Un po' a disagio Non hanno proprio Degli stati umorali Incredibili Soprattutto Valentina Che ha perso suo marito È rimasta vedova Quindi poverina Ma tanto adesso Anche lei Ritornerà vicino ad Enrico La barra è al massimo Quindi non può mancare tanto Comunque qui abbiamo Le tombe Abbiamo quella di Filippo Quella di Elisa E abbiamo quella Di tre cagnolini Oreo Harmony E Lulu A casa di Esther Abbiamo la tomba Di Melody E poi come altre tombe Adesso abbiamo Questa qui Di Enrico Che metto un attimo qua Ok Quindi abbiamo la terza E adesso vedremo Anche di prendere La quarta Ed eccoci qua No Eccoci qua Aspettate che Sveglio tutti Non potete dormire In questo momento Aspettate che sveglio tutti Venite tutti qui Tutti dal primo all'ultimo Vabbè Tu stai morendo Quindi è inutile Che ti dico niente È arrivato Anche il momento E' vantina Sono tutti stravolti Poi chi Chi deve andare in bagno Chi Mamma mia Sono tutti Uno più stravolto Dell'altro All'ultimo Si aggiunge anche Il maggiordomo Poverino Fuori il maggiordomo Ok E vabbè È arrivato Anche il momento Di Valentina Vabbè Piano piano La seconda generazione Ci sta abbandonando Comunque Valentina E Enrico Sono e saranno sempre Dei sims Fantastici Ho amato la loro famiglia E sempre L'amerò Veramente È stata una famiglia Fantastica Uè è arrivata anche Lisa E il tristo Emetitore Purtroppo Si è portata Anche Valentina Adesso Aggiungiamo fuori Anche La tomba Di Valentina Aspettate Ed ecco qui Ecco qua Adesso Il quartetto Di tomba Abbiamo Elisa Filippo E la figlia Valentina Con ovviamente Il marito Enrico E vabbè Purtroppo Piano piano La seconda generazione Tutti i sim Che abbiamo utilizzato Nella prima stagione Ci stanno lasciando Ma comunque Daranno spazio Alla terza generazione Che sicuramente Ci darà tante sorprese E ci darà anche Tanto divertimento Ovviamente Vedrò adesso Di fare un bel makeover A questo Riccardo Perché è veramente Brutto in questa maniera Però comunque Vedremo tutto Nell'ultimo episodio Con questa famiglia Quindi Vi farò vedere tutto La prossima volta Che torniamo qui Nell'attico La prossima volta Sarà anche L'ultima volta Che utilizzeremo L'attico Perderemo Tutta questa Eredità Mamma mia Ok Dai Mi fa veramente strano Però Dai direi di non pensarci Adesso Ci pensiamo La prossima volta Che torniamo da loro Dai Quindi dopo tutti questi passaggi D'età E dopo l'ultimo raduno Alla fontanese La compagnia E l'ultimo turno Alla clinica Bounmiao Direi che per questo episodio Può essere veramente tutto Vi invito Ad iscrivervi A lasciare tanti commentini Con i vostri pareri A lasciare like E condividere i video Con i vostri amici Ovviamente Vi invito a seguirmi Su tutti quanti I miei social Facebook Instagram E Twitch Vi mando Un bacione fortissimo Mua E buon sims a tutti E buon sims a tutti E buon sims a tutti E buon sims a tutti